Arriva a ranch finale la raccolta firme per l'esenzione ticket, le liste d'attesa promossa dal Tribunale per i diritti del balato e dall'Associazione Cittadinanza Attiva. A una manciata di ore dalla decorrenza dell'iniziativa la risposta dei sulmonesi è stata straordinaria. Salgono a 300 le firme raccolte per l'abolizione dei famosi 10 euro. Per il 31 maggio si punta a superare le 400 firme. Stando ai numeri per il capologo Peligno si tratta di un record sul Mona e la seconda città abruzzese dove si registra il successo dell'iniziativa di TDM e Cittadinanza Attiva. Il primato lo detiene Chieti che già da qualche giorno ha raccolto oltre 400 firme. Soddisfazione viene espressa a Onda Tg da responsabile della sede locale del TDM Edoardo Facchini, ma è come questa volta abbiamo ottenuto una grande partecipazione da parte della gente, rileva Facchini. È un segno che la battaglia che stiamo portando avanti tocca un vero problema per gli utenti. La raccolta firme partì lo scorso 4 maggio in occasione della giornata europea per i diritti del malato. Si può firmare al TDM entro il 31 maggio ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30. La prima settimana di giugno le firme saranno consegnate agli organi competenti. Nel frattempo proseguono gli incontri con i candidati sindaco delle prossime elezioni amministrative a Sulmona. Per discutere delle problematiche inerenti l'ospedale Peligno, dopo Elisabetta Bianchi, sono passati alla sede del TDM anche Domenico Capaldo e Anna Maria Casini.